Lecce supera Bari in ricchezza secondo le ultime dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia e Finanze, quelle del 2023 riferite all'anno fiscale 2022. Dati che il magazine Qui Finanza riporta in una mappa con i redditi medi di tutti gli oltre 7.900 comuni italiani. La paperona dello stivale Portofino, in Liguria, con un reddito medio che supera i 90.000 euro pro capite, nove volte quello della calabrese Cerenà e quattro volte e mezzo il reddito medio degli italiani, che nel 2023 risulta di 21.751 euro, in aumento di 1.007 euro rispetto all'anno precedente. Va precisato che si tratta dei soli redditi da lavoro, esclusi sussidi, pensioni e redditi dai mobili e fabbricati. La ricchezza in Italia è concentrata nei conti in banca di appena l'1% dei contribuenti, con un ampio divario nord-sud. Il reddito medio dei Lombardi, dichiarato nel 2023, è stato di 25.698 euro, a fronte dei 17.230 euro dei pugliesi, con una forbice di 8.468 euro. Se poi mettiamo a fuoco i numeri della nostra regione, è Lecce a svettare con 23.033 euro in media pro capite, seguita da Bari con 22.420 euro e Taranto 20.355 euro. Tutti sotto i 20.000 euro i redditi medi pro capite, dichiarati per l'anno fiscale 2022 negli altri capoluoghi pugliesi, 19.879 euro a Brindisi, 18.901 a Foggia, 16.060 euro in media nei tre capoluoghi della BAT. Lecce, però, è un caso isolato, perché se si va a guardare in provincia, tutti i comuni risultano ben al di sotto dei 20.000 euro di reddito medio pro capite. Andando a spulciare i numeri dei tre comuni più popolosi, i cittadini di Nardò hanno dichiarato redditi medi per 16.463 euro, quelli di Galatina per 17.569 euro, quelli di Copertino addirittura sotto i 15.000, per l'esattezza 14.983 euro. Una fotografia che restituisce una distribuzione della ricchezza fortemente disomogenea.